E' quella cosa che tutti fanno testa, la cantano e la ballano nei titoli di testa. Sabato l'Europa fa spettacolo su Rai 1. Europa e Europa con Elisabetta Gardini, Fabrizio Frizzi, Raffaele Paganini e il Trioreno. Eccezionali ospiti. Attrazioni da tutta Europa presentate dall'inviato speciale Giorgio Calabrese. Chi è la Rai? La Rai siamo noi, la Rai siete voi. Viva la Rai, bella è la Rai. Europa e Europa, il viaggio continua. Sabato 20 e 30, Rai 1. Grazie. 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 Grazie.